Ora vediamo il pompage del muscolo piccolo pettorale. Il muscolo piccolo pettorale ha origine dal processo coracoideo della scapola, che è questo pezzetto di osso che si anteriorizza rispetto al corpo della scapola, e troviamo al di sotto della clavicola, tra la clavicola e la testa dell'omero. Su questo piccolo ossicino originano altri tre muscoli, che sono il coraco brachiale e il capo breve del bicipite. Il piccolo pettorale ha un andamento cranio-caudale a ventaglio e si inserisce al livello della terza, della quarta e della quinta costa. Come effettuiamo il pompage? Inseriremo una mano a bloccare il moncone della spalla e di conseguenza il processo coracoideo, con la mano caudale, con la mano craniale invece ci posizioneremo sull'emico stato omolaterale a noi, al di sopra del processo coracoideo, del processo oxifoideo. Ovviamente attenzione in una donna a non mettere ovviamente la mano sul seno, ci posizioniamo sulla parte condrocostale. Come abbiamo fatto per il pompage della fascia toracolombare, anche qui utilizziamo il peso del nostro corpo, comprimendo e distanziando le nostre mani andiamo ad effettuare il pompage del piccolo pettorale. E effettuiamo sempre dei movimenti lenti, come abbiamo più volte detto. Questo pompage è molto utile per tutte quelle problematiche di spalla intraruotata, quindi in tutti quei pazienti che hanno le spalle molto anteposte o che hanno la scapola alata. La scapola alata è quella scapola che a causa della tensione del piccolo pettorale si stacca il margine, la punta inferiore della scapola, si stacca dal piano costale e porta a quelle famosissime alette che si vedono specialmente nei bambini durante l'età evolutiva. Ma è anche molto utile in tutte quelle problematiche cervicobrachiali di compressione del fascio vascolo nervoso che va all'arto superiore. Noi sappiamo che l'origine, o meglio la prima fuoriuscita del fascio vascolo nervoso cervicobrachiale avviene a livello degli scaleni, successivamente passa al di sotto della clavicola e del sottoclaveare per poi gettarsi al di sotto della muscolatura del piccolo pettorale. Quindi una tensione in questa zona a livello del piccolo pettorale può irritare le strutture che ci passano sotto riducendone poi, uno, la mobilità dell'intero arto superiore, ma anche tutte quelle sintomatologie vascolo nervosa, quindi anche riduzione del battito cardiaco a livello distale, mani fredde, parestesie alle dita delle mani, alla mano stessa. Il pompage aiuta, decoattando, o meglio allungando le fibre di questo muscolo, a decoattarne appunto il suo ventre dal piano costale. Di conseguenza, per mettere alle strutture che ci passano sotto un migliore passaggio. Quindi, mano sul moncone della spalla e prendo anche il processo coracoideo, mano sulla superficie condrocostale, omolaterale, al di sopra del processo xifoideo, utilizzo il corpo per allungare il piccolo pettorale. In questo caso posso comunque utilizzare la respirazione del paziente, quindi quando il mio paziente butta fuori l'aria io creo il pompage, l'allungamento, lo mantengo, in questo caso il mio paziente continuerà la sua respirazione normale, stiamo bloccando solo una piccola parte di un emitorace. Passati i nostri 15-20 secondi possiamo tranquillamente ritornare alla lunghezza originaria del muscolo piccolo pettorale. Di nuovo, quando il mio paziente butta fuori l'aria io creo il pompage. Grazie. 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 Grazie.